I quattro ingredienti per Deployment Automation da manuale. Ciao, io sono Michele e in questo video andiamo a vedere quali sono le cose da implementare per ottenere una Deployment Automation allo stato dell'app. Deployment Automation è la quarta Technical Capability elencata dal Dora DevOps Model per i team che puntano al meglio nell'implementare le pratiche DevOps. Per Deployment Automation intendiamo quell'infrastruttura, quegli automatismi, quegli strumenti che andiamo ad implementare per prendere quello che Continuous Integration ci ha lasciato, cioè i nostri artefatti compilati, il nostro software, i nostri script di evoluzione del database, belli impacchettati, pronti per essere rilasciati nei vari ambienti in cui ne abbiamo bisogno fino ad arrivare ovviamente ai nostri utenti finali installando in produzione. L'automazione dei Deployment è importantissima perché permette di rimuovere l'errore umano e quindi la sicurezza del lavoro. Sembra strano dirlo in ambito informatico ma tant'è. È capitato, penso a tutti, di mettere le mani in un ambiente di produzione essendo convinti magari di essere collocati a un ambiente di test oppure eseguire uno script invece di un altro e creare dei down o dei disservizi ai clienti perché stavamo lavorando in maniera manuale. Quindi tutti gli investimenti in automazione sono come una assicurazione che ci protegge e evita proprio questo genere di errori che sono deleteri anche per la reputazione. A proposito della Continuous Integration ho fatto un video qualche tempo fa per cui ti invito a guardarlo, a recuperarlo qui nel canale nel caso tu ancora non lo abbia fatto. Quindi dicevamo abbiamo i nostri pacchetti, a me piace disegnarli così, anche con il fiocchetto regalo che arrivano dalla Continuous Integration pronti per essere rilasciati. Qui dentro abbiamo tutto quello che serve. Abbiamo eseguibili, a seconda del nostro ambiente, abbiamo librerie, abbiamo script di manutenzione del database, di evoluzione del database o dei dati del database. Anche qui ci ho fatto un video sulle pratiche di evoluzione del database, ti invito ad andarlo a vedere. E siamo pronti a traghettare questo pacchetto. Facciamo un bello freccione in vari ambienti fino ad arrivare alla produzione, alla magica produzione dove i nostri utenti finali attendono la nostra meravigliosa ultima versione del software che abbiamo pronta. Quando progettiamo il nostro processo di deployment automatizzato, allora attenzione, deployment è leggermente diverso da delivery, deployment è un termine appunto inglese ovviamente che deriva dall'ambito logistico trattino militare, del dispiegamento logistico di truppe. E quindi ci si concentra sull'automazione, sul tecnicismo, mentre il delivery ha più il significato inteso come un rilascio di feature nuove per il cliente. Quindi quando parliamo di deployment automation ci concentriamo proprio sul tecnicismo, sul processo, sull'automazione. Che cosa dobbiamo fare? Quindi quali sono i quattro punti a cui dobbiamo stare, prestare sempre attenzione? Il primo è che il processo, l'ho scritto veramente in gigantesco, facciamo così, deve essere sempre uguale per tutti gli ambienti. Qui ho fatto dei, in questo freccione, che rappresenta il traghettamento, ho fatto l'avanzare di questo pacchetto dei nostri artefatti verso la produzione, ho fatto dei rettangoli che rappresentano gli ambienti, per esempio può esserci il classico ambiente dev, l'ambiente test, il butto a caso, i soliti nomi, qua giusto per dire degli ambienti diversi. Ognuno avrà i propri, le nostre proprie convenzioni. All'interno di questo ambiente andremo a fare uno, due, tre, quattro, vari passaggi che servono per installare, per aggiornare la nostra soluzione software. Potrebbe essere fermare dei servizi, sostituire dei binari, riavviare i servizi, applicare degli schemi di evoluzione nel database. Insomma, facciamo quello che serve per il nostro contesto. Ecco, quello che noi facciamo in questi ambienti deve sempre essere uguale al netto magari di parametri che cambiano, ovviamente tipo stringhe di connessione che puntano al database di test, di certo non a quello di produzione, e così via. Quindi il processo che noi facciamo deve essere sempre lo stesso e in particolare deve essere identico a quello che facciamo in produzione. Gli script utilizzati devono essere quelli, quindi tutto uguale, perché non vogliamo di certo provare per la prima volta le nostre procedure, i nostri script, direttamente in produzione. Quindi quello che applicheremo in produzione deve essere testato più volte precedentemente in ambienti diversi tra loro. Ecco cosa si intende con il principio numero uno, che il processo deve essere sempre uguale per tutti gli ambienti. È fondamentale che il nostro processo contenga test. Quindi nell'artefatto che arriva dalla Continuous Integration devono esserci anche degli oggetti, scripting, programmi, tutto quello che è necessario per i test, in maniera tale da esercitare subito l'ambiente con varie tecnologie, varie tipologie di test, può essere degli smoke, dei test di carico, insomma tutto quello che ci può venire in mente, oppure, o meglio ancora, quello di cui abbiamo bisogno per ottenere un sufficiente, un livello di qualità ragionevole che ci permetta di essere tranquilli per promuovere i nostri artefatti da un ambiente al successivo. Il secondo punto, invece, è quello che ci permette di trarre i benefici da questa automazione togliendo, rimuovendo ostacoli, rimuovendo ostacoli di processo, soprattutto burocratici. Quindi sostanzialmente dobbiamo permettere a chiunque, ovviamente insicurezza, quindi autenticato barra autorizzato all'interno della piattaforma aziendale che usiamo, potrebbe essere appunto un Azure DevOps, un GitHub e così via. Comunque, chiunque, ok, del team, autenticato o autorizzato, ad avviare i deployment. In questo modo è un punto importante perché evitiamo il gatekeeping, cioè che ci sia il classico release manager, quella sola persona che ha l'autorizzazione a promuovere gli artefatti nei vari ambienti fino alla produzione. In questa maniera, invece, rendiamo l'automazione self-service che chiunque ne ha bisogno la può utilizzare, le persone sono formate, sanno quello che stanno facendo e allo stesso modo le si rendono responsabili, si sentono responsabili e sono quindi anche motivate a lavorare bene e a fare in modo che le cose funzionino. Secondo punto, quindi, permettere chiunque ad avviare i deployment. Il terzo punto è un punto che quasi quasi, ora che ci pensi, io l'avrei messo tra, forse quello chiamerei il punto zero, ma non importa, non è tanto un ordine di importanza, quello che c'è qui, è quello, il cosiddetto principio build once e deploy many. cioè, quello che vogliamo dire è che dobbiamo utilizzare lo stesso pacchetto in tutto il processo. Non dobbiamo mai alterare il nostro pacchetto regalo che abbiamo creato qui all'inizio, l'artefatto, non deve mai cambiare durante e mentre attraversa il nostro processo di deployment automatizzato, ma deve sempre essere lo stesso. In questa maniera, solo ed esclusivamente in questa maniera, noi siamo in grado di avere una tracciabilità affidabile degli eventi e di quello che è successo, di riproducibilità, di quello che eventualmente, di eventuali problemi che dobbiamo andare ad indagare e sappiamo effettivamente la versione che è arrivata in produzione. Quindi compiliamo una volta quell'artefatto e lo utilizziamo sempre durante il processo. Allora, qui spesso mi viene detto, ok Michele, ma se per esempio in, prendiamo un attimo la penna rossa, se in questo ambiente, in qua, ho un problema, cosa devo fare? Beh, la risposta è quella più semplice. Il pacchetto, per esempio, versione 1.5 che in qua ha avuto problemi, il processo si interrompe qui, si ferma qui, viene indagato quello che c'è nella gara e viene fatta una fix, verrà creata la versione 1.6, 1.5.1 a seconda di quello che è la gestione del versioning nell'azienda, nel team, nel contesto e si riparte da capo con l'intero processo, ripartendo da dev, test, eccetera. Non si corregge qui, diciamo, non si fa una correzione al volo qui e poi si va in produzione, ma si corregge e si rifà tutto quanto. Infine, quarto ed ultimo punto, andiamo a duplicare, questa volta sono veloce, è quello che dobbiamo, deve essere possibile ricreare lo stato dell'ambiente tramite informazioni nell'artefatto barra dal source control o, sì, source control del repository. Quindi, cosa significa? Che i nostri ambienti, la configurazione dei nostri ambienti deve essere anche questa documentata e potrebbe anche essere utile farla arrivare nel nostro artefatto tramite il nostro artefatto che porterà delle variabili di configurazione, dei parametri. Questo viene benissimo, per esempio, possiamo immaginarlo in ambito cloud dove abbiamo la possibilità e anzi, non solo abbiamo la possibilità, ma abbiamo il dovere di utilizzare un approccio infrastructure as code in maniera tale che il nostro ambiente sia descritto anche questo da degli artefatti, tipicamente sono ovviamente dei file di testo e quindi magari qui si strizza un po' l'occhiolino anche quello che è un approccio GitOps, ma potrebbe essere l'argomento per un altro video. Quindi il nostro ambiente deve essere descritto e deve essere configurato e deve essere riconfigurabile anche questo dall'automazione. In questa maniera qual è l'obiettivo? Quello di rendere ripetibile l'esecuzione della nostra pipeline sempre uguale. In questo modo non solo traghettiamo una certa versione specifica della nostra applicazione, ma anche la configurazione dell'ambiente di cui ha bisogno. Ecco quindi che in questo senso l'utilizzare piattaforme cloud è fenomenale perché appunto permette con infrastructure as code di avere insieme che nella pipeline viene aggiornata sia l'infrastruttura descritta e creata l'infrastruttura, l'ambiente sia la nostra applicazione. Bene, con la deployment automation ci fermiamo qui. Abbiamo visto un'altra pratica core del Dora DevOps Model. Mi raccomando se questo video ti è piaciuto o hai imparato qualcosa metti un mi piace e iscriviti al canale per rimanere aggiornato sulle prossime uscite. Ciao! Ciao!